Oggi vorrei proporvi la lettura del libro scritto da Daria Bignardi dal titolo Onni prigione è un'isola, edizione Mondadori. Sin dall'inizio della sua carriera Daria Bignardi ha mostrato particolare interesse per le carceri italiane. Ironia della sorte, la Bignardi è anche la nuora di Adriano Sofri, leader di lotta continua, condannato a 22 anni per essere stato accusato e condannato insieme a Giorgio Pietro Stefani come mandante dell'omicidio del commissario di polizia calabresi nel 1972. Ma questa è tutta un'altra storia. In questo libro, interessante, anche gradevole, compaiono dei flash, dei flash che ripropongono le esperienze vissute in 30 anni di esercizio della professione giornalistica all'interno delle carceri. Quindi ci sono interviste, riflessioni, frutto di incontri con direttori di strutture penitenziarie, ispettori di polizia, detenuti eccellenti e detenuti comuni. E pian piano si delinea in una forma intimista una storia, una storia del nostro paese, una storia dei delitti del nostro paese e anche sia la possibilità di aprirsi a degli interrogativi riguardo alle strutture carcerarie. Strutture carcerarie dove c'è un sovraffollamento, dove in particolar modo in alcuni momenti particolari, come per esempio il Covid, si è verificato anche un aumento dei suicidi già presente comunque all'interno di queste strutture. E quindi ci si rende conto che ancora un sistema di detenzione che consenta l'espiazione della pena per il reato commesso e al contempo l'opportunità che potrebbe rappresentare la detenzione all'interno del carcere per poter poi inserirsi nuovamente in un contesto lavorativo all'interno della società, sono tutte strade da percorrere con una visione nuova, che non dimentichi quella che è stata l'esperienza fino ad oggi. Un libro piacevole, dicevo, perché alla fine la scrittura è a metà tra un'inchiesta in cui si rivela la mano della giornalista e al contempo un diario nel quale la Bignardi racconta anche di sé, racconta delle sue esperienze, ci dà la possibilità, come dicevo anche precedentemente, di ripercorrere quelli che sono stati i momenti storici, quelli legati alle Brigate Rosse, ai omicidi eccellenti e anche a situazioni che oramai fanno parte del nostro quotidiano e che fanno sì che il numero di persone inserite in queste strutture aumenti di giorno in giorno, mi riferisco agli immigrati, agli spacciatori e anche ai consumatori di sostanze stupefacenti. Un libro scritto dalla Bignardi che decide di allontanarsi dal rumore della città nella quale attualmente vive, che è Milano, e di isolarsi in un'isola, quella di Linosa, proprio per riuscire ad abbracciare con maggiore intensità quello che è stato il suo passato, quelle che sono le sue riflessioni e quello che può venire nuovamente a galla rispetto a proposte, idee, considerazioni rispetto al mondo che riguarda tutti i detenuti. Un libro quindi che consiglio, interessante e che va ad associarsi a un discorso che riguarda tutti noi, perché diciamo che parlare di prigione, parlare di carcere non è una cosa facile, un po' come quando si cerca di affrontare il tema della morte e tutti siamo portati ad allontanarlo da noi, perché ci fa spaventa. Anche il discorso che riguarda le carceri in Italia, e non sono in Italia, è un discorso che inconsciamente forse tendiamo ad allontanare, perché ci ricollega a qualcosa che è dentro di noi, quindi il male, la capacità che abbiamo di commettere azioni che possono sicuramente introdurci in una realtà come quella del carcere per espiare una colpa, ma nello stesso tempo ci può coinvolgere tutti, può riguardare ciascuno di noi. E quindi questo libro sicuramente è un piccolo tassello per riflettere su qualcosa che ci appartiene. Alla prossima!